Nella ottica della sinistra deve esistere solo un centro di potere che è lo Stato, regioni, province, comuni, autonomie, territori, via, non serve, decide uno e gli altri ubbidiscono. Quindi questa è la scommessa, io non so il sindaco di Perugia quanti soldi abbia in cassa, ma non è normale che nelle casse dei comuni italiani siano fermi 20 miliardi di euro in contanti che si potrebbero spendere domani mattina e sarebbero centinaia di migliaia di posti di lavoro che non si possono spendere nel nome del patto di stabilità, che la metà di voi non saprà neanche giustamente che diamine è, è una legge idiota suggerita da Bruxelles e recepita dallo Stato italiano che dice siccome bisogna rispettare il 3% di rapporto fra deficit, PIL, che poi sono numeri che secondo me si sono trovati all'autogrill di notte alle 3 della mattina ubriachi a decidere come dovessero essere questi numeri, in base a questi numeri un comune in provincia di Vicenza dove sono stato il mese scorso ha un milione e mezzo di euro in cassa in contanti perché li ha risparmiati, quindi c'ha il cassetto del sindaco con un milione e mezzo di euro dentro dei suoi cittadini in contanti deve sistemare la scuola e l'asilo nido del suo paese perché i soffitti cadono a pezzi ma non può aprire il cassetto perché le chiavi del cassetto sono a Roma perché c'è il patto di stabilità